Ciao ragazzi, Twist the Clown è uno dei miei personaggi di serie tv preferito. Io anche faccio cosplay di questo personaggio. Ano scorso ho vinto il primo premio in una gara cosplay nel WonderCon Bari 2016. Adesso voglio condividere con voi un timelapse del mio trucco come Twist the Clown. Vediamo! E attività, ovunque realizzare i sogni speciali del favoloso mondo di Marcello. Del favoloso mondo di Marcello. Grazie per la visione! 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 Espero vi sia piaciuto il mio twist e il mio video di trucco con questo personaggio. Se volete vedere più di foto di twist o anche i miei altri lavori potete seguirmi su Instagram by Marcello Carboni o anche su Facebook by Marcello. Ci vediamo alla prossima! Ciao ciao!